insomma io volevo passare una giornata in pace e invece n'isba, n'i culo io prima ero fisso a pescare, alle 7 facevo festa, alle 7 e mezzo avevo già la canna a mano e dopo andavo a pescare ma proprio fisso, tutti i laghi, tutti i fiumi, tutti i mari, con le camole, i robaini, con i mais, un sisam mais un po' dopo ho smesso perché io mi dava in pace, non facevo nemmeno in tempo a legare l'amino e gli arrivava subito l'amino ho preso nulla? Sì, ho preso un caffè ai bar, darmi tempo e sono a legare il filo, farmi tirare la canna all'acqua per do meno, questo c'ha voglia di ragionare, io voglio stare in silenzio, sono un uomo per stare due ore in silenzio gli avvia vedo e gli ha voglia di ragionare, ma che affa, mamma mia ragazzi oggi sarebbe voglia di buttarsi nel lago sarebbe voglia di buttarsi dentro, sì, te tu ti fai buttare dentro quell'acquamarcia, su, ma mi sa che se tu continui a ragionare e ti cibolo io dentro il lago, via, poi finalmente va via e tu rimani solo in il lago, alle due, verso, sai, verso dei desinari, i tocchi, i tocchi e mezzo, c'è nessuno, tu sei lì in santa pace, ah finalmente sono qui da me solo e tu vedi in lontananza gli arriva un altro pescatore, porra, la concorrenza, non sia mai gli arriva un altro pescatore e tu lo vedi già da lontano, gli è tutto perdato, sono tutti perdati e sembra vanno a fare la guerra, e bussia a pescare, e bussia a caccia, e c'hanno la mimetica la mimetica, la divisa con il coso, come se vanno a bombardare, che siamo, un coso, ma che scherzi per andare a pescare, ma poi ci sono nell'acqua, sul mio canicero, nel mio cinghiale che fanno di che la mimetizzazione di americana canne da pesca, la damminione, quella con il laser, che vedi le pesce sotto... Che dando c'è il campanellino, io dico con gli utassoni ma io dico, cuci con gli utassoni, pesco topoz none ma beh beh io pesco in filo e bellissimo, guarda che fava e sono, non lo sapevo mia a parte che sembrano sì, Rambo, Rambo, diaria Rambo, Rambo da pesca, versione, diarriva questi rabbi, poi se li andano, si mettono il sole, perché con la scusa che non pigliano un cazzo, diciamo ma io sono venuto a pigliare un'ora il sole, tanto che passavano l'ora, se li andano la maglia, se li vedi tutti i pettorai, tutti i cosacchi che fanno per l'affare, la sceletta, vabbè, a parte l'affare suo, comunque, e poi se tu sei lì accanto e tu hai una canata da pesca comprata alla laiva dei cinesi da sottomarca di quando ha detto aveva 14 anni, la cassettina blade di plastica che gli usano nell'89 con quel filo di platini di 40 e lui gli arriva tutta roba tecnologica, la pesca, la canna da pesca wifi, non c'ha neanche il filo, gli ha wifi la sua, senza filo, ma che scherzi, c'ha un cinese apposta che gli sorti dai panchetto per guadinare i pesci, andranno sotto proprio, incompresono il prezzo, poi verso le due gli arriva il terzo pescatore e si mette dalla parte opposta di là, tu dici, ah, meno male, vai, sei messo di là, a me non rompe i coglioni, vai, eccolo, questo è di quegli che si dà la maglia, trippa, e tu lo vedi, tu hai capito che questi si appoggiano alla stagionata e cominciano a rutteggiare, poi in lago fa l'eco, i rutti, i panini, e che è quello che alle quattro comincia a ciondolare sulla stagionata, perché gli è briaco, a forza i celestini, i candini, gli è briaco marcio, quindi hai detto, cichetta presso, una cignata, la cignata l'ho presa, quella l'ho presa, che poi quello lì, briaco, e va a pescare, briaco appoggiato alla stagionata, ha un ciotto, quello che gli ha più culo di tutti, che lo sa, che lo sa davvero pescare, capito, e tu lo vedi e piglia lo storione, però gli manca il guadino, ma se te le orti, ma comprate un guadino, costa quindi c'era quando andate qui, allora tu li vedi, gli arriano piano piano a piedi, scusò, che ce l'hai il guadino, che ce l'hai, che me lo presti, poi lo riporto, sì, ma riportalo, è un diavolo, te oltre, tocca andare, e andartelo a ripigliare, perché mai ce ne fosse uno, riporti il guadino, accidente a voi, vi schiantasse piedi, poi arriva il pessimista, perché anche il pessimista gli ha una figura che a laghi non manca, va l'acqua piove, no, veramente c'è un sole, ma quale va la notte, hanno messo, perché tu fuma, fuma come una ciminiera, che c'è la buccia, ai telegiornali hanno messo pioggia, ma e che dici, ma per ora c'è il sole, se piove e si andrà via, che c'è, è in carbonio? No, è in carbonio, sì, è in mezzo carbonio, mezzo, è pericoloso, se c'è un fulmine tu rischi di morire, porca madonna, ragazzi, oh, allora, insomma, io voglio passare una giornata in pace, invece n'isba, n'iculo, ma poi tutte le volte che dico, aspetta, oggi mi voglio metterai il sole, voglio prendere un pignone di sole, allora, la sponda gli era questa, allora, ieri sono venuto, gli ero di qua, alle 4 il sole per te, quindi alle 5 gli arriva, fai il giro, dall'altra parte, li passai là, allora gli è quella giusta, ombra, tutti i giorni, e l'accanto si mette un centimetro, accanto a te gli hai il sole tutti i giorni, quello lì che sembrava Rambo, no? Che c'ha il panchettino 4x4 a benzina, a diesel, per pescare un'attrezzatura neanche, ma neanche Putin ce l'aveva, per dire. Poi, a fine giornata, quando magari verso le 7, che te tu riusci a rimettere la roba, quella accanto una presa, Rambo una presa per dire, in una quarantina, te tu sei riuscito a preso un cazzo, o, che le vuoi due trofe, te le lascio, tu le mangi, perché? Ti fa l'umiliazione, dice, oh, che ne vuoi un po' delle mie, tanto io tutte, a me, tanto io, mi scendano in frigorifero, come dire, io, c'è una mia, io, mi scendano in congelatore, c'è una mia, due, pieni, ma che le vuoi, che non ti ha preso nulla, no, è un ne voglio, guarda, è un ne voglio, è un ne voglio, non ho preso nulla e non mangio nulla, sai che, insomma, poi il morale della favola di ho smesso, andare a pescare, che tanto non prendiamo una segaccia nulla, quindi ho fatto festa, ho fatto prima.